eliminare qualsiasi oggetto con photoshop ecco cinque modi per farlo molto molto velocemente ciao a tutti e bentornati quest'oggi vedremo dei metodi per eliminare qualsiasi oggetto da photoshop o meglio qualsiasi elemento di disturbo che vorremmo rimuovere e che non siamo stati capaci di eliminare in fase di scatto il percorso che intraprenderemo oggi partirà dal classico metodo manuale fino ad arrivare a quello più automatizzato grazie all'intelligenza artificiale ma prima di tutto va chiarito cosa fa photoshop nel momento in cui andiamo ad eliminare un soggetto sicuramente quello che ci viene in mente in maniera più spontanea è quello di andare a riprendere varie zone dell'immagine per andarli a collocare sull'area di interesse ed è proprio quello che fa il timbro clone che è il primo strumento che andremo a utilizzare il timbro clone è molto semplice da utilizzare ma facciamo un piccolo ripasso lo selezioniamo aumentiamo leggermente il pennello senza esagerare e con il tasto alt su windows o option su mac ci andiamo a selezionare una zona da riportare sull'area che ci interessa cancellare ora ovviamente non possiamo andare a prendere qualsiasi area in questa immagine perché sicuramente questa pavimentazione sarà diversa in maniera prospettica e anche a livello di ombre e luci da quest'area qui quindi cerchiamo di rimanere più o meno in linea selezioniamo tengo spinto option e vado a cancellare il soggetto vedete che il punto di riferimento quella croce che sta sulla destra è sempre perfettamente in linea ora però bisogna fare subito una piccola precisazione non ho a disposizione questa linea di demarcazione che stava qua originariamente quindi probabilmente andrò a cancellarla e se mi trovo su quest'area qui sto un po più in difficoltà perché dovrò selezionare in maniera perfetta l'area per andarla a riportare nel punto di interesse vedete che nel cerchio o una piccola anteprima quindi clicco perfettamente quando sono in linea con il bordo di questa struttura e cerco di fare del mio meglio sto cercando di non creare troppi duplicati perché uno dei problemi del timbro clone è proprio questo duplicare le aree selezionate vedete che qua ad esempio questa scritta è riportata più volte quindi quello che ci interessa a noi adesso è ricostruire i mattoni magari qua andiamo a prendere una linea verticale proprio da qua sopra perché ha più o meno la stessa luce e prospettiva e concludo il mio lavoro andandomi a riprendere anche questa linea qui lo cancelliamo perché ne ho fatta una di troppo e se proprio vogliamo essere precisi andiamo a prendere anche le scritte in questo caso forse potremmo utilizzare la toppa selezioniamo l'area di interesse e andiamo a prendere questo pezzo di muro qua vedete che l'ha adattato quasi perfettamente facciamo qualche piccola rifinitura e più o meno il risultato è assicurato ora rimane sempre questa linea che possiamo comunque togliere grazie alla toppa e abbiamo già in pochi minuti rimosso tutto quello che ci disturbava ovviamente non abbiamo un risultato perfetto però già così possiamo dirci ampiamente soddisfatti magari togliamo anche qualche piccolo artefatto e ci mettiamo questa immagine da parte questo sarà il risultato del timbro clone riprendiamo l'originale ritorniamo alla foto senza nessun tipo di modifica e vediamo cosa riesce a fare invece lo strumento riempi come si utilizza? andiamo sicuramente a prendere una selezione anche non precisa rimaniamo leggermente larghi rispetto al soggetto da cancellare andiamo su modifica riempi mettiamo in base al contenuto e spingiamo semplicemente ok Photoshop andrà ad analizzare l'immagine prendendo come riferimento varie zone di tutto quello che era al di fuori della selezione andrà a cancellare il nostro soggetto ovviamente anche qui non ho a disposizione questa linea che c'era originariamente quindi farò la stessa cosa riseleziono modifica riempi in base al contenuto anche qui siamo riusciti a ottenere un risultato molto soddisfacente ci duplichiamo anche questa immagine questa sarà il risultato di riempi torniamo indietro e questa volta proviamo ad utilizzare riempi in base al contenuto che è leggermente diverso dal precedente riempi che comunque si basava su un riempimento in base al contenuto ma adesso vi faccio vedere la differenza che seppur minima è basilare perché io vado a selezionare faccio riempi in base al contenuto vedete prima ho cliccato qui adesso clicco qui e mi da una finestra a parte qui c'è un'area che prende in considerazione in automatico vedete sta su automatico posso andare anche su rettangolare cioè prende un'area perfettamente squadrata oppure posso andare su personale e mi consiglio ovviamente di usare lo strumento del pennello per selezionare quello che preferisco o meglio quello che secondo me è più adatto per essere duplicato e inserito nell'area da cancellare vedete non sono stato molto preciso infatti l'anteprima non è un granché però già se vado su auto e poi vado a contemplare il risultato vedo se c'è bisogno di intervenire con il pennello ad esempio andando a togliere delle aree che non mi interessano vedete che lui qua rigenera comunque il risultato è simile a quello di prima oppure andare ad aggiungere altre aree ovviamente anche qui ho sempre il problema della linea magari potrei andare ad aggiungere parte di selezione e il gioco è fatto spingiamo ok ovviamente l'output l'ha messo su un altro livello perché gliel'ho detto io ma voi potete anche mettere tutto direttamente sull'immagine originale uniamo tutto spingiamo ctrl e e andiamo a duplicarci anche questa quindi abbiamo l'immagine modificata con lo strumento toppa l'immagine modificata con lo strumento riempi e in base al contenuto e poi l'immagine modificata con riempi in base al contenuto però in versione più manuale ora se già usiamo lo strumento rimuovi possiamo semplicemente andare a selezionare l'area che dobbiamo cancellare e chiedere a photoshop di fare tutto il lavoro per noi andiamo a vedere spingo ok e già con una semplice spennellata siamo riusciti a fare lo stesso lavoro di prima vi faccio notare che man mano che passiamo a un altro strumento strumento ovviamente sempre più moderno sempre più avanzato il lavoro si velocizza sempre di più ci duplichiamo anche questo e andiamo infine a vedere cosa succede utilizzando totalmente l'intelligenza artificiale ad esempio mi vado a prendere sempre la stessa area e qui su riempimento generativo non scrivo niente e clicco semplicemente genera dopo nemmeno un minuto questo è il risultato notate subito la differenza è stata ricreata alla perfezione questa linea di demarcazione tra una metà e l'altra della pavimentazione e abbiamo addirittura tre possibili risultati forse questo potrebbe essere più veritiero ma sono tutti e tre molto buoni diciamo che questo è il meno preciso ma anche quello che potrebbe essere più realistico in quanto la spaccatura non è molto precisa e quindi potrebbe illudere un po' di più l'osservatore uniamo i livelli e vediamo le differenze tra i vari strumenti che abbiamo utilizzato questo era il timbro questo è lo strumento riempi questo riempi in base al contenuto questo è lo strumento rimuovi qui potevamo togliere anche questo anzi andiamo a farlo ecco qua e infine la rimozione tramite intelligenza artificiale ovviamente in questo caso l'intelligenza artificiale ci ha fatto risparmiare molto tempo e ci ha dato addirittura un risultato migliore certo è che secondo me bisogna sempre imparare a utilizzare anche tutti gli altri strumenti perché l'intelligenza artificiale sicuramente non ci darà sempre il risultato migliore potremmo anche avere la necessità di unire più strumenti cioè prima l'intelligenza artificiale e poi andare a fare un piccolo ritocco con il timbro clone o con lo strumento riempi o altre cose questi che vi ho elencato sono i 5 metodi più veloci attualmente a disposizione in Photoshop stiamo parlando di Photoshop 2024 sicuramente in futuro usciranno altri metodi anche perché l'intelligenza artificiale avrete notato anche voi si sta diffondendo sempre di più e ogni mese c'è una novità impensabile fino a poco tempo prima in tutti i modi se avete domande vi consiglio di scrivermi nei commenti e se avete bisogno di approfondimenti potete sempre prenotare una lezione privata dal vivo o online andando sul mio sito www.fabriziopavia.com se invece il video vi è stato utile cliccate su mi piace e iscrivetevi al canale oppure supportatemi cliccando sul pulsante grazie o abbonandovi anche per questo approfondimento su Photoshop è tutto e noi ci vediamo la prossima volta ciao